Il suo arrivo è stato annunciato ufficialmente nella tarda serata di lunedì 2 febbraio, poco prima della chiusura ufficiale della sessione invernale di calcio mercato. Il nuovo difensore amaranto Luca Andrea Crescenzi, classe 1992, è arrivato dalla regina e l'attuale contratto lo lega alla società di Viale Gramsci fino a giugno 2015. Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore dell'Arezzo ha evidenziato il differente clima che ha trovato nel nuovo spogliatoio rispetto a quello di Reggio Calabria. Già a livello di impatto, di spogliatoio, di una certa tranquillità che si respira già durante l'allenamento sono cose molto positive per me e quindi credo di aver fatto la scelta giusta. C'erano delle complicazioni con la società, con la regina, un po' il mio contratto, un po' che la soluzione sembrava uno scambio, non si sapeva come potessi andare via da lì. Poi alle ultime ore, come ho detto, ho deciso io di rinunciare ad un anno di contratto e allora si è un po' semplificato tutto e ci è voluto poco. Al centro della conferenza stampa l'analisi del mercato dell'Arezzo con Capuano che ha spiegato le motivazioni per cui non si è arrivato anche un centrocampista a rinforzare la rosa amaranto. Protagonista delle ultime trattative, in questo caso sfumate, un altro giocatore della regina, Jacopo Dall'Oglio. Non è il fatto che non abbiamo migliorato qualitativamente perché è un grosso giocatore, ma era un'operazione di prospetto nella quale sono intervenuto a 20 minuti dalla fine perché se l'avessi fatta alle tre era improponibile, si chiedeva 500 mila euro per la metà di questo ragazzo. Il centrocampista non si è preso per colpa mia perché io volevo fare questa, e c'ero quasi riuscito, questa grande cosa e magari ho tralasciato altre ipotesi. Fermo restando che avremmo potuto prendere anche qualche altro centrocampista, però io ho sempre detto che se dovremmo prendere tanto per prendere era meglio non prendere. Sui nuovi arrivi la società non mette la parola fine, potendo infatti inserirsi nel cosiddetto mercato degli svincolati. Domenica intanto è in calendario un'altra gara importante per la formazione di Capuano che affronterà la trasferta di Lumezzane. In questo periodo siamo stati bravissimi a risorgere nei momenti di grande difficoltà anche la vittoria di Gianerminio e poi siamo andati nell'inferno, oggi siamo nel purgatorio, io voglio andare nel paradiso, all'inferno non ci voglio più tornare.